Ciao a tutti e benvenuti in negozio anche se virtualmente Siamo qui oggi per parlare della nuova Nikon la numero 2 in casa Nikon dopo la D5 la nuova D850 La nuova macchina professionale full frame tanto attesa perché ormai era già almeno un anno e mezzo che si aspettava l'evoluzione del suo modello precedente la D810 Sì, infatti Nikon ha dovuto addirittura mettere a tacere le voci che c'erano perché si parlava di un 820 oppure di un 850 su internet c'erano illazioni di tutti i tipi tant'è che è stata costretta Nikon addirittura quasi un mese e mezzo prima dell'annuncio ufficiale prestabilito di mettere a tacere queste voci dando qualche assaggio sulla nuova macchina fra il quale il nome e il fatto che potesse fare dei tile apps interessanti in 8K Esatto, quindi vediamo questa nuova arrivata in casa Nikon finalmente tanto attesa Apri tu? Sì Anche se sai che con le scatole non ho un buon rapporto quantomeno a ritirare le cose L'abbiamo visto nel video precedente Esatto, a tirarle fuori, sono un drago La macchina ha già iniziato ad arrivare in negozio infatti come avete visto nel video precedente pubblicato su Facebook abbiamo già iniziato a distribuzione delle prime macchine questa la terremo in negozio come unità dimostrativa anche per farla vedere e toccare ai vari utenti Ecco qua, a te l'onore Serviva una batteria? Sì La macchina come dicevamo a 45 milioni di pixel quindi sicuramente un sensore full frame molto molto risoluto ha dato un po' tutti gli usi Inoltre la macchina è in grado di salvare il classico NEF sia a 12 che a 14 bit oltre ai normalissimi formati JPEG il misto e il TIF La nuova D850 ha una sensibilità che va dai 64 ISO ai 25006 ovviamente sensibile volendo fino a oltre i 102.000 Inoltre in merito agli ISO rispetto alla vecchia D810 hanno cambiato la posizione del tasto nella nuova D850 il tasto è superiore non è più laterale vi faccio vedere ecco qua questa è la D810 eccola qua e avevamo il tasto ISO sulla sinistra portandolo sulla destra sicuramente hanno aumentato la comodità per i fotografi ad esempio i matrimonialisti che hanno bisogno di un accesso molto rapido e comodo al cambio degli ISO della sensibilità ovviamente dovendo seguire la cerimonia e la coppia quindi hanno bisogno di fare uno switch dentro e fuori dalla chiesa piuttosto che a ricevimento quindi questa è sicuramente una nota di plauso per Nikon assolutamente sì anche perché la macchina in realtà ha delle caratteristiche che la rendono universale e trasversale la macchina come abbiamo detto ha un numero di pixel molto elevato oltre la media di quasi tutte le altre macchine tuttavia ha anche un numero di fotogrammi a secondo molto elevato il che la rende estremamente versatile sia per il fotografo che fa cerimonie sia per il fotografo che sa sport o che fa natura perché la macchina ha la possibilità di lavorare a 7 fotogrammi a secondo con la batteria interna oppure ha la possibilità di montare uno speciale battery grip un power grip e utilizzando le batterie della D5 è in grado di arrivare a 9 fotogrammi a secondo questo rende la macchina davvero interessante un po' per tutti i fotografi sia a quelli che si dedicano in modo specifico al loro campo sia ai fotografi più simili a quelli che ci sono oggi e che richiedono il mercato dove un fotografo deve essere un po' un tuttofare quindi deve sì fare la cerimonia ma deve fare anche il backstage o comunque quel fotografo che ha bisogno un corpo macchina professionale e deve renderlo utilizzabile in vari ambiti perché magari un giorno fa il fotografo di cerimonia il giorno dopo fa l'industriale poi magari per passione va a fotografare Natura alla domenica quindi con questa macchina Nikon ha voluto proprio creare una macchina universale che sia in grado di soddisfare un po' tutti e che faccia effettivamente un po' tutto e tra l'altro i filmati quindi se è necessario fare un backstage tra l'altro sono in 4K quindi sicuramente ormai abbiamo una qualità di filmato che è superlativa proprio per i filmati ovviamente la macchina monta il doppio slot uno SD e l'altro invece l'XQD dove vengono salvati i filmati in 4K un'altra differenza per quanto riguarda il vecchio modello è il monitor LCD che è orientabile e touch quindi ovviamente Nikon ha attualizzato le funzionalità dell'LCD alle esigenze dei giorni nostri rispetto ovviamente al modello precedente che era la 810 che aveva il classico display ovviamente incorporato fisso con la protezione un'altra novità a livello proprio ergonomico della macchina è l'impugnatura l'ergonomia dell'impugnatura che è molto più profonda rispetto a quella della D810 quindi tra virgolette strizza un pochino l'occhio a quella che era stata l'innovazione di impugnatura ergonomica della D750 quindi questo sicuramente aiuta la presa della macchina e l'utilizzo perché proprio è possibile anche per chi non ha le mani particolarmente grosse di impugnare la macchina con comodità e sicurezza infine una cosa che è passata un po' inosservata sulla nostra nuova 850 è l'assenza del flash pop-up che è stato rimosso a favore di un pentaprisma quindi non più i classici pentaspecchio presenti nella maggior parte delle macchine di categoria inferiore ma un pentaprisma con una copertura all'interno del mirino del viewfinder del 100% sia orizzontale che verticale perché spesso si indica il 100% come copertura ma poi non abbiamo una copertura reale sia orizzontale che verticale mentre di qui abbiamo una garanzia che all'interno del nostro viewfinder avremo un'inquadratura reale del nostro scatto la macchina monta le batterie le EN e L15A che le danno in condizioni diciamo regolari di scatto un'autonomia di 1840 scatti da scheda tecnica la macchina inoltre è dotata chiaramente delle nuove connettività quindi è dotata sia del wifi e del bluetooth ma nonostante questo ha come optional un'ulteriore antenna wifi che le permette di raggiungere delle velocità di trasferimento molto più alte quindi per un utilizzo più tradizionale o per il controllo remoto da smartphone possiamo utilizzare la connettività incorporata senza alcun tipo di problema quando invece dovremo scaricare o gestire la macchina in un ambito più professionale magari tramite computer potremo utilizzare questa antenna wifi esterna che le permette di raggiungere delle velocità di trasferimento da 800 Mbps quindi sicuramente un flusso dati molto molto rapido parliamo infine delle agevolazioni sull'acquisto della nuova macchina e delle iniziative che Nital ha avviato ecco per il lancio di questa nuova ammiraglia se vogliamo perché comunque è un'ammiraglia a tutti gli effetti abbiamo esatto abbiamo un piccolo specchietto che tra l'altro è scaricabile scaricabile il link dalla nostra pagina facebook l'abbiamo pubblicato questa mattina perché Nital ha organizzato appunto la D850 live tour che avrà due tappe una a Milano e una a Roma quella a Milano sarà sabato 16 settembre dove registrandosi all'evento e partecipando verrà rilasciato un voucher che darà diritto a ricevere un flash l'SB700 in omaggio se si acquista la D850 tra il 15 settembre e il 31 di ottobre quindi un'offerta interessante assolutamente considerando che un SB700 ha un valore di circa 330-335 euro se non ricordo male quindi sicuramente è un bel incentivo e appunto può essere un connubio molto duttile quel tipo di flash sulla D750 la maggior ragione è che il FOVAP è stato rimosso esatto l'altra promozione è quella dei 4 anni di garanzia Nital ovviamente con la Nital VIP sono 4 anni di garanzia a Nital Italia non solo per chi acquista la macchina la D850 con scontrino ma anche per i professionisti che l'acquistano tramite fattura quindi è sicuramente un servizio di Nital ottimo e più che apprezzabile appunto perché 4 anni di garanzia sono sicuramente utili soprattutto per i professionisti esatto che magari stressa la macchina un po' più del normale o dell'amatore ovviamente in più offrono un check up professionale da parte del servizio LTR Service in sede a Torino e è attivo anche il finanziamento 24 mesi tasso zero per la prima volta diciamo di solito era il 20 mesi con tessere NPS invece per questa macchina acquistata in abbinamento a una delle ottiche aderenti all'iniziativa è possibile acquistare appunto entrambi la macchina e ottica con un finanziamento a tasso zero per 24 mesi operato da Comsel vi ringraziamo quindi di aver guardato questo nostro nuovo video sulla Nikon D850 e vi aspettiamo sulle nostre pagine social di Facebook e di Youtube per altre informazioni e altri video e qui in negozio per provare la macchina assolutamente quando volete noi siamo qua per provarla e mi raccomando se siete interessati registratevi all'evento di Milano perché sicuramente avrete modo di fare quattro scatti anche in un'ambientazione diversa e può essere sicuramente un'occasione di incontro e di stimolo e poi il flash comunque ne vale la pena assolutamente arrivederci ciao 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 Grazie a tutti.